Il Terrain Following Radar è un sistema montato a bordo del velivolo, sulla parte anteriore, quindi sul muso del velivolo, che scansiona, effettua una scansione verticale di fronte al velivolo, quindi analizza il terreno che c'è ad una certa distanza dal velivolo e sulla base dei dati raccolti permette di calcolare la traiettoria per evitare la collisione con il terreno ad esempio montuoso. Grazie a questo sistema il pilota seleziona l'altitudine minima che vuol mantenere e il radar, come abbiamo detto, scansionando il terreno di fronte al velivolo, riesce a far effettuare, al velivolo stesso, delle manovre tali per cui la distanza dal terreno è quella selezionata dal pilota.